Parliamo ora della giornata mondiale contro il cancro. L'epidemia ha compromesso lo screening precoce, aumenta la percentuale di sopravvivenza per chi si ammala. L'Italia ha un'aspettativa di vita più alta della media dei paesi europei. Questo è quanto dice il Ministro della Salute, Roberto Speranza, Alma Grandin. Nel 2020 in Italia sono stati diagnosticati 377 mila nuovi casi di tumore, ma l'effetto della pandemia ha compromesso le campagne di prevenzione, con oltre 2 milioni di screening in meno nel 2020. La diminuzione degli screening precoci porterà quindi a diagnosi tardive nei prossimi anni. Ma un piano per battere il cancro è anche tra le priorità dell'Unione Europea. Ridurre la percentuale dei fumatori dal 25% di oggi al 5% nel 2040, per creare una generazione zero tabacco. Eliminare entro il 2030 anche il tumore causato dal papillomavirus, grazie alla vaccinazione che dovrà coprire il 90% delle giovani donne. I numeri del cancro del 2020 quindi ci fanno vedere una realtà che è sostanzialmente simile agli anni precedenti. Dobbiamo però considerare che la maggior parte dei tumori ha una riduzione di incidenza, salvo il caso del melanoma, del tumore del pancreas e di una piccola quota di tumori della mammella. La buona notizia è che oggi in Italia la sopravvivenza alla diagnosi di tumore segna un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Questo significa che un paziente su 4 è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. La cronaca ora con l'ultimo saluto a Roberta.